Rosolini, i carabinieri eseguono un servizio straordinario di controllo del territorio. I carabinieri della compagnia di noto, anche a seguito dei recenti fatti di cronaca, hanno intensificato i servizi di controllo del territorio del comune di Rosolini, eseguendo nel fine settimana appena trascorso un servizio coordinato composto da numerose pattuglie. Nel corso di tale servizio sono state controllate su strada un centinaio di persone alla guida di circa 70 veicoli ed effettuate diverse perquisizioni personali e domiciliari che hanno permesso di segnalare all'autorità amministrativa due giovani quali assuntori di sostanze stupefacenti. Sono state inoltre levante 17 contravvenzioni per omessa revisione del veicolo, guida senza patente perché mai conseguito o scaduta di validità, guida senza casco, guida senza cintura di sicurezza e mancata copertura assicurativa del veicolo. Il numero particolarmente elevato di tale contravvenzione al codice della strada testimonia quanto scarsa sia l'attenzione che alcuni automobilisti pongono nella guida. Guidare senza aver mai conseguito la patente o senza stipulare alcuna copertura assicurativa sul mezzo può facilmente comportare che al verificarsi di un incidente la vittima non riesca ad ottenere nemmeno il giusto risarcimento con conseguenze particolarmente gravi quando si verificano dei decessi. Importantissima è dunque l'azione delle forze dell'ordine nel frenare le tali fenomeni antisociali. Durante le attività i carabinieri hanno inoltre denunciato un uomo per il reato di furto aggramato di energia elettrica. A seguito di verifica presso l'abitazione è stato infatti accertato che il soggetto aveva divelto il contatore installato dalla società fornitrice del servizio elettrico allacciando l'impianto elettrico della propria abitazione direttamente alla rete pubblica correndo tra l'altro anche un serio rischio per la propria incolumità vista la pericolosità dell'operazione. I militari hanno infine tratto in arresto Antonio Amico Rosolinese 51enne che colpito da un ordine di esecuzione dovrà scontare 5 anni e 4 mesi di carcere per reati commessi tra il 2000 e il 2008. La cittadinanza è invitata a collaborare segnalando al numero di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza.